bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video si come avrete letto dal titolo non è un video così lungo ma vabbè era soltanto per dirvi che adesso siamo anche su periscope e ogni tanto farò delle live e vi avvertirò con un video anche se sarà cortissimo ma vi avvertirò e siamo anche su facebook il nome è sempre drago libero atomic tv e anche su periscope è sempre lo stesso e sono anche su skype quindi se mi cercate però sono drago libero e basta su skype sono drago libero e basta se mi cercate su skype cercate drago libero e vi apparirà anche il nome di drago libero cioè tra parentesi suo cugino cioè mio cugino che registra con me quindi si è chiamato drago libero tra parentesi il cugino ok per questo video è tutto anche se dura due secondi così ma dovevo soltanto avvertirvi di quello che serviva e quindi ceri ciao